salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di sopravvivenza in minecraft allora buon venerdì tanto per cominciare e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video quindi avere attive tutte le notifiche del canale e lasciate un bel like commentate condividete il video del canale e date un'occhiata anche agli altri contenuti che potete trovare come naruto dragon ball one piece slime racers civilization super hot e tanti altri giochi che ci sono e arriveranno presto spero ok allora andiamo al progetto di oggi l'idea era fare quello però non avendo il tempo materiale perché ho avuto un sacco di imprevisti e quindi sto registrando proprio all'ultimo secondo non ho il tempo materiale di andare a realizzare l'altra metà come volevo fare io e poi il resto interno quindi ripieghiamo con qualcosa di più semplice e veloce da produrre insomma da costruire magari qualcuno si starà chiedendo ma perché non non esplori più uno non vai in esplorazione perché allora parte che ho già esplorato parecchio i dintorni ok sopra centro pokemon ho già esplorato parecchi dintorni ma anche perché vorrei attendere la 1.17 per poter scovare insomma cioè trovare le caverne nuovi blocchi nuovi e quant'altro e quindi non volevo andare per caso a generare dei chunk nuovi già sono lontani ancora più lontani per poter usufruire delle novità della 1.17 ok e anche perché ho esplorato parecchio è in questa zona poi non so magari vi faccio vedere qualcosa ma lo lascio lì e lo condivido in altra maniera allora prendiamo su tutta questa roba qui che ci serve per prima cosa andiamo a realizzare la solita lampada qui così da sistemare anche questo ottimo e qui no la terra e poi l'erba ah si è giusto l'erba stava là sotto non importa la mettiamo qui adesso ok va bene non importa ok andiamo avanti con il design della lampada quindi questo non serve più questo li togliamo è in linea da no è in linea è un po' più indietro questa quindi forse dovre si devo spostarla di uno più indietro accidentino accidentaccio al destino di bonaccio questo l'avevo messo giù come prova non come definitivo accidenti a me allora quindi facciamo così così anzi no togli questo e tac riesco a metterlo giusto no ovviamente no che palle mi tocca uscire ragazzi oggi sono veramente preso con le bombe allora facciamo così adesso questo lo mettiamo qua ma siamo in linea d'aria giusto sì questo togliero un tiro qua e dopo sistemo questa zona mi piace che vada ad attaccarsi solo che c'è anche l'albero in mezzo alle scatole e vabbè niente faremo che si attacca sull'albero e amen allora questi non servono più e qui sotto l'ammessa la leva per prima ok e tappiamo ottimo se serve più niente la luce le botole e così stiamo rifacendo la lanterna che vi ho fatto vedere un po di tempo fa la parte sopra così i cancelli la slab e le botole ancora allora questo va qui mettiamo i cancelli che apriamo verso l'interno e qui sopra invece le botole facciamo la stessa cosa per gli altri due lati di qua e le botole sopra ok uno e due ok perfetto ottimo e ora concentriamoci sulla costruzione che andiamo a realizzare adesso quindi questo ci serve questi non ci servono più ci serve pietra e pietrisco e una lanterna allora facciamo un paio di scalini quindi 1 2 3 4 per adesso e lo stesso facciamo con questi 1 2 3 4 perfetto dovrebbero essere sufficienti più o meno adesso vediamo e togli questo perfetto allora ci mettiamo al centro tra le due lanterne quindi vediamo un po' 1 2 3 4 quindi qui in teoria e 1 2 3 4 quindi qui tech esattamente perfetto all'altezza ci siamo andiamo bene qui e cominciamo a costruire andiamo a costruire praticamente un'altra statua questa molto più semplice di qualcuno che sta meditando tutta in pietra senza troppi fronzoli questa non serve usarla troppo ok poi qui abbiamo fatto le gambe incrociate per così dire o comunque i piedi qui gambe e i piedini qui invece adesso andiamo a realizzare le braccia le mani sono già lì concerte facciamo dagli altri gli altri scalini di pietra è molto comodo questo questo banco da lavoro che hanno aggiunto non troppo tempo fa è una comunità assurda così non ti tocca craftarne troppi ok poi sopra questo qui questo ho sbagliato cercano di dargli anche un po' di texture per così dire anche se forse anche la mano potrei farla facciamo questa togli questo e facciamo così ci può stare sempre ci può stare ok torniamo sul retro ok e qua adesso dobbiamo fare la testa anche questa non è niente di complicato e ovviamente ho sbagliato a mettere un blocco e fa ecco anzi mettiamola dal lato di questo qui e così abbiamo terminato anche la statuetta allora dovrebbe esserci rimasta un po' di terra si e la lanterna da mettere la lanterna la mettiamo qui sopra e se la tieni in mano se riesco ovviamente a salirci e e hoppla la mettiamo qui la sta tenendo in mano qui invece perché adesso non ho sicuramente della terra sufficiente io andrei a riempire così e dopo ce ne vorrebbe uno anche qui allora vediamo un po' togliamo via uno di questi non di più perché dopo sennò fa schifo qui uno e uno qui e qua l'albero lo prolunghia anzi oddio potrei fare una cosa un po' strana ovvero questa qui guardate adesso vi faccio vedere se riesco ok abbiamo recuperato quasi tutto il legno allora l'idea strana che mi era venuta in mente era qualcosa di questo tipo si va bene per adesso mi convince poco però va bene in caso quello lo anzi si aspetta possiamo già lavorarlo se no se no se non mi piace poi cavo via tutto allora toglie via questo eh com'è che si rendevano no così no no mi sa che ce ne more più di uno non mi ricordo eh il blocco con tutti i lati di corteccia qui non mi ricordo forse ne servono quattro per farne uno cioè per farne uno farne quattro va bene va bene allora questo lo mettiamo qui e facciamo così perfetto adesso vediamo un attimo anche col discorso delle luci ehm dieci nove otto questo possiamo toglierla no perché andiamo ad abbassare troppo ehm la luminosità qui come siamo messi undici dieci nove dieci ok ehm 8 no qui ci serve un'illuminazione perché se no ehm qui è troppo scuro ehm mettiamola così la mettiamo di uno un po' più indietro così da tra virgolette nasconderla un pelino però poi magari potrei metterci qualcos'altro vabbè questo lo mettiamo qui e niente a parte quell'albero che mi infastidisce essere sincero ehm questo possiamo toglierla e possiamo togliere anche questo in teoria yes la mi infastidisce quindi penso che che tirerò giù questo albero vabbè allora ragazzi ehm per questo video è tutto vi ringrazio per la visione commentate condividete iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ehm mi raccomando lasciate un bel mi piace e scusate se il video è stato corto e breve abbiamo fatto poco o niente ma ho i tempi molto contatti in questo in questo episodio quindi ciao e ci vediamo al prossimo ciao